Ciao, lo sai che puoi fermare la violenza con un fiore? Puoi farlo sabato 18 e domenica dicembre aprile nelle piazze della tua città con le hortelze del telefono azzurro. Con la tua offerta sosterrai l'19696 e l'199151515. Le linee d'ascolto del telefono azzurro, una speranza concreta per i bambini e adolescenti in difficoltà. Scopri la piazza più vicina a te su www.azzurro.it o al numero verde 800 090 335.